Let's play The Siege! Passo 1. Usa i blocchi di legno per formare un'acca. Ma quella è una E. No questa è la A, quella è una E. Devi fare l'acca di hotel. Formate finalmente l'acca. Passo 2. Fissate le ruote ovunque vogliate. Passo 3. Posizionate la macchina a terra. Passo 4. Vai macchinina! Passo 2. Posizionare le ruote come in figura. Cosa vi dicevo io? Sì, era poco chiaro. Ti spieghi male eh, direi. Mettici un po' di impegno. Passo 3. Posizionate la macchina a terra. Passo 4. Livello 2. Costruisci un cannone e carica. E carica. Oh bravo. Spara impennando non troppo troppo troppo. Fai cosa dico. Ma non è colpa mia. Eh cos'è colpa mia? Sì ma vaccheri in culo. Sei tu che sei scarso. Eh ma mi offendi sempre. Non gioco più. Dai torna qui. E chi vuole più giocare con te? E se ti lascio costruire la macchina come vuoi? Mmm ok. Tentativo 1. Tentativo 2. Come with me for fun in my baguette. Come along let's go for the Halloween. Buonasera. Trasmetteremo ora i più semplici modi per vincere il quarto livello. A 2 minuti e 10 andrà in onda Trabucco Mattina. A 2 minuti e 34 c'è Fionda per te. A 2 minuti e 40 il di un buggy con cannone show. Buona visione. A 2 minuti e 40 c'è Fionda per te. No Maria io chiudo la busta. Livello 5. Un livello che può sembrare divertente ma che alla lunga si rivela essere un grande sfracellamento di... Giorgio un grazioso omenicolo ci sbarra la via. Credeteci il passo omenicolo. No. Boom. Ouch. Soffro di combustione. Giorgio credo che abbia riscettato. Stringi i denti Carlo. Scrianzato di un omenicolo. E ho ucciso anche Edward. Povero Edward. Per chiudere vorrei ringraziare due persone che mi hanno dato una grossissima mano nella realizzazione di questo video e che senza saperlo hanno occupato un posto davvero, davvero speciale nel mio cuore. Sono stati un validissimo supporto e una continua fonte di ispirazione. Grazie. Bud Spencer e Terence Hill.